Buongiorno ragazzi, buongiorno in questo nuovo video, questa è l'associazione del nostro canale e allora, mi dispiace che non posso mandare né il nome della foto allora, io vi chiamo questo e lui è il Cibri e ora è il compagno di un'ora perfetta non frega la gente questo è il mio concetto vabbè, noi caricheremo blog, seguite al computer e se volete seguiteci anche su Facebook lui è Cibriano Venosa e io ho che conosco con la Cibriano lui sta andando ok qua, lui c'è il bonazzo e non so perché il bonazzo vuoi essere il bonazzo mamma mi ha messo così ok, e bella sottirata